non si esterna non si esterna? quindi verso fuori non verso casa verso casa mia questi o questi vai 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 ci ha puntato ci ha puntato eh la targa è legativa eh la targa si è sentita se prendi la sua ferma eh la targa con la direzione discolana eh si attesse alla preferita a portare l'aria alla luna tutt'umana stessa ericsson eh piccolano quindi sta salendo per volta ferrata ecco chi ha passi attenzione che una è straniera eh potrebbero stare insieme golf eh con questo sta uscendo vai 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 noi fermiamo il golf noi fermiamo il golf gli dici noi fermiamo il golf vai ho preso questo è un passo ho preso mi vanno a aspettare al principio i fabbuni addosso mi hanno caricato bambini a riesce il collega stai a piedi tengo un verbo che è armato non è armato eh massima attenzione per tutti Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori.